Eccoci qua signori, salve. Oggi in questo mini video parliamo dei vantaggi, tanto abbiamo in collaborazione il gatto, non so se lo sentite, oggi parliamo dei vantaggi degli investimenti sportivi. Parliamo sostanzialmente di quelli che sono i vantaggi che mi hanno permesso di... Attenzione, sì? Ci dica qualcosa? Come vuole partecipare a questa conversazione? Molto interessante. Allora, parliamo semplicemente di quelli che sono i vantaggi di un investimento sui mercati sportivi. Allora, per prima cosa c'è da dire che i mercati sportivi rappresentano un'opportunità di investimento molto molto vantaggiosa per tutti coloro che dispongono di un capitale piccolo. Faccio per dire, 15.000 euro sono un buon capitale per tentare, per provare a guadagnare uno stipendio dai mercati sportivi. Intanto qua accarezzo il micio perché sennò non la fa più finita. Sono una grande opportunità gli investimenti sportivi. Perché? Perché sappiamo, ogni volta che andiamo a effettuare operazioni di mercato, sappiamo quanto denaro rischiamo. Praticamente, a differenza di quelle che possono essere le attività, per così dire, normali, noi non abbiamo rischi superiori al nostro investimento. Basti pensare che quando piazziamo, puntiamo un importo di 100 euro su una quota 2, sappiamo che potenzialmente possiamo perdere 100 euro. Non perderemo mai più di quei 100 euro. Allo stesso modo, allo stesso modo, è importante dire che non solo i mercati sportivi permettono degli investimenti con piccoli capitali, ma permettono soprattutto una percentuale di rendimento molto molto superiore rispetto ad altri tipi di investimenti. Faccio per dire, poniamo il caso ad esempio del trading finanziario. Ecco, realizzare il 10% con il trading finanziario è veramente un risultato molto molto grande. Basti pensare che si riesce a raggiungere questo risultato, o meglio i migliori trader di successo riescono a raggiungere questo risultato, molto desiderato dai trader, nell'arco di un anno. Pensate invece che nel mondo delle scommesse, nel mondo scusate degli investimenti sportivi, succede che molto più facilmente è possibile guadagnare e molto più facilmente è possibile generare profitti pari al 10% nell'arco di un mese. Quindi questo vuol dire che nell'arco di un periodo pari ad un anno possiamo potenzialmente andare a generare l'80% con una modesta tranquillità, rischiando molto molto di meno di quello che potremmo fare in altri settori. Quindi gli investimenti sportivi sono molto importanti e permettono di generare profitti in maniera potenzialmente più facile rispetto ad altri tipi di investimenti. È ovvio che però ci sono necessarie tutta una serie di competenze ed è ovvio che allo stesso modo bisogna dedicare del tempo delle energie ed investire il denaro in maniera corretta.